Ciao e benvenuti a questo nuovo appuntamento. Oggi parleremo di come scegliere le porte interne. La scelta delle porte interne è uno degli aspetti fondamentali se stai ristrutturando la tua casa. Una porta infatti non solo ha delle caratteristiche funzionali, quali garantire la privacy, isolare dal punto di vista termico, eccetera, ma è anche un elemento di design che si deve fondere perfettamente con lo stile dell'ambiente. Nella valutazione di una porta vanno quindi presi in esame diversi fattori, come il tipo di aperture, il materiale, le finiture e a questo proposito vediamo qualche suggerimento su come scegliere le porte interne al meglio in base alle proprie esigenze. Tipo di apertura. A seconda dello spazio che si ha a disposizione si può optare per diversi modelli di apertura. In questo modo verrà garantito il minimo ingombro se ad esempio la stanza è di dimensioni ridotte o i complementi di arredo creano uno stacco. Si potrebbe creare abbattente, in questo caso si tratta dell'apertura più classica, fissata su un lato del vano tramite cerniere. Alcuni modelli di nuova generazione permettono l'apertura su entrambi i lati. Potrebbe essere scorrevole e questa è la soluzione perfetta se lo spazio è poco. Le porte di questo tipo possono essere a scomparsa, che una volta aperta rimane inserita nella parete oppure esterna al muro. Se scegli il primo tipo assicurati che nel muro non vi siano colonne o canne fumarie, altrimenti meglio optare per la seconda soluzione. Potrebbero essere anche pieghevoli e questa è l'evoluzione della cosiddetta porta a soffietto, dove l'anta è suddivisa in due parti mobili che si richiudono al libro. Inoltre potrebbe essere anche roto traslante. Questa è una porta che si può aprire sia in modo tradizionale abbattente, sia a ruotare su un perno e posizionarsi in modo perpendicolare allo stipite, così da avere il minimo ingombra. Vediamo adesso i tipi di materiali. Nello scegliere le porte interne puoi prendere in considerazione tantissimi materiali, declinabili in pressoché infinite combinazioni di colori e dimensioni. Il materiale più classico è certamente il legno. Si può scegliere tra il classico massello robusto e durevole nel tempo oppure il legno grezzo che è economico e può essere dipinto del colore preferito. Un'altra opzione potrebbe essere un legno laccato, perfetto per un ambiente di grande raffinatezza. Se preferisci qualcosa di più originale puoi optare invece per delle porte in vetro. Il più conosciuto è il vetro temperato, ma ultimamente si sta diffondendo anche quello stratificato. Ottenuto cioè incollando due o più lastre di vetro ad un materiale plastico, il PVB. In caso di rottura della porta questo permette al vetro di non frantumarsi in mille schegge, costituendo quindi una sicurezza in più. Passiamo adesso a parlare delle finiture e delle maniglie. Nello scegliere le porte interne per la tua casa ti troverai anche a dover valutare diversamente diverse finiture e tipi di maniglie. La porta potrà infatti essere liscia o presentare scanalature che danno movimento e carattere all'anta. Un'altra soluzione potrebbe essere dei decori ad intaglio o in caso di porta in vetro un effetto satinato oppure opacco. Per quanto riguarda infine le maniglie anche in questo caso c'è l'imbarazzo della scelta. Possono essere lineari e squadrate, lucidi o cromate oppure con finiture in ottone, bronzo, antracite ecc. Le maniglie devono essere infine pratiche da ferrare e in tono con il materiale della porta. A seconda del tipo di lavorazione scelta la porta avrà un costo differente. Il consiglio come sempre di confrontare più preventivi in modo da scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze. Ecco, spero che questi piccoli consigli ti tornino inutile. Con questo ti saluto e ti invito a condividere eventualmente questo video oppure puoi seguirci anche sul nostro podcast. E con questo è tutto. Ciao a presto! Ciao a presto!